... Violenti scontri tra manifestanti e forze dell'ordine durante lo sciopero generale in Catalogna che ha visto in piazza a Barcellona oltre mezzo milioni di persone. Almeno 54 sono state arrestate secondo quanto afferma la Polizia regionale catalana, 18 gli agenti feriti. La Polizia nazionale spagnola ha invece arrestato 10 persone per i disordini davanti alla prefettura nel centro di Barcellona dove i manifestanti hanno lanciato oggetti sugli agenti che presidiavano l'edificio. La protesta è stata scatenata dalle pesanti condanne inflitte ai leader indipendentisti catalani per il loro sostegno al referendum sull'indipendenza nel 2017, decretato illegale dalla magistratura spagnola. La Corte Suprema ha infatti condannato 9 leader indipendentisti catalani al carcere con pene dai 9 ai 13 anni. I manifestanti hanno dato fuoco a macchine, compiuto atti vandalici contro negozi e proprietà e lanciando bombe Molotov contro i poliziotti. Intanto il classico tra Barcellona e Real Madrid, in programma sabato 26 ottobre, valido per la decima giornata della Liga, è stato rinviato per i timori di disordini.